Ma la focaccia è solo quella alta e soffice, farina, sale nell'acqua, dentro anche l'olio e via. No, non ci va lievito. Facciamo riposare. Una focaccia al mattorello? Ma dai che la conosci. Uso le nocche così non si spezza. Anche se dovesse bucare si rattoppa. Direi che ci siamo. Stessa cosa anche con l'altro panetto. Questa non è la ricetta con cui essere timidi con l'olio. Spolveratina di semola. Voilà. Praticamente trasparente. Tocchettoni di formaggio. Via quella in eccesso. E ora strappiamo la superficie. Olio. E andiamo in forno. Cosa devo aggiungere?